Ok, quando vuoi, così parte. Prima, ok, vai. Sei divertito, quindi vuoi rifarlo. Fatto bene, bravo. Grazie a tutti. 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 Ti diverti ancora di più. Grazie a tutti. 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 Qui a destra e appena siamo sullo stradone, giù tutto. Vai. Andiamo sulle destra. E' un po' di traffico. E' un po' di traffico. Andiamo sulle destra. 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 No, no, no. ma dopo quando si torna indietro si va forte e c'è meno traffico a tornare indietro ma dopo si torna indietro si torna indietro Grazie a tutti. Al semaforo vai dritto stavolta e ti faccio fare qualche chilometro in più. Grazie a tutti. 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 Vai. Ok. Vai. 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 100. Vai. 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 . Vai. 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 Y. Vai. Vai. una pista, se Grazie a tutti. 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 Tiri. Grazie a tutti.